si sta cambiando la laura magari ha finito no non vorrei registrare beh se oh che bello qui è il deposito di tutti i vestiti più avanti di là c'è anche Roberto bellissimo qui vedi ci sono già i mantelli dei capitani pronti ecco dove sono tutte le sedie bellissimo quando c'erano i troni i troni i troni che eh un anno c'erano tutti eh sì eh un anno c'era un vescovo eh sì c'erano tutti i vescovi ma che bello qua se vuoi ci sono anche in alto prima il palio no 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 rispettiamo le regole fino a domani sera non voglio vedere il palio prima del del previsto posso entrare no perché questo deposito anche questo non l'ho mai visto sto vedendo delle cose nuove questo è il guardaroba pronto per eccezionale ma qua ognuno sa qual è il suo posto si sono numerati ah sono numerati e hai detto come faccio come fanno a trovare ognuno arriva con il suo numero e non gli diamo il vestito ah eccezionale e ci riconsegnano il numero con il vestito bello sì eh perché ma chi ha fatto tutte queste allora questi ci sono alcuni acquistati ah e altri sono di eh fatti dalle sarte dalle sarte qui di Castiglione sì una è la mamma dell'ospite ah caspita e che era il responsabile del coso mamma mia guarda è fatta quella roba che belli eh sì se non fossero numerati circa duecento vestiti duecento e figuranti quanti sono complessivamente cioè duecento duecento sono quelli che vestiamo noi poi abbiamo le pistole che ci arrivano fuori che sono ah ecco quindi arriviamo a circa quattrocento figuranti poi ci sono i bottali che sono una quarantina beh ma loro i bottali hanno le loro divise se li portano sono personali quelle lì no no le forniamo sempre noi ah si fornite voi ah caspita bello bello questo qua è interessante anche questo che bello ah c'era da mettere con la maglietta lì no io ho messo questa no no va bene adesso lei sta riprendendo come si è